La pace dei santi sia con voi. Il 15 aprile la Chiesa celebra la memoria delle sante Anastasia e Basilissa, martiri, nobili, matrone e romane. Furono discepole dei santi apostoli Pietro e Paolo, dai quali ebbero il singolare incarico e privilegio di seppellirne i corpi martoriati. Persistettero costanti nella professione della loro fede e dopo essere stata loro tagliata la lingua ed essere state percosse con la spada, conseguirono anch'esse la corona del martirio sotto l'imperatore Nerone attorno all'anno 68. I resti delle due gloriose martiri, secondo il diario romano del 1926, sarebbero ancora oggi custodite in Santa Maria della Pace. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Anastasia e di Santa Basilissa ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti!